Allora, prima Vincenzo ha detto che ha fatto un pezzo che si allontanava appena appena dal repertorio io faccio un pezzo che non c'entra una mazza con il repertorio, scusate il problema papale adesso farò un brano di Michel Camilo, almeno ci provo, che si intitola Caribe faccio un brano che si intitola Caribe Grazie 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 Grazie.